Musica Abbiamo preparato per voi una serie di video con brevi esercizi che si possono fare a casa in uno spazio ridotto, da seduti o in piedi. In questo secondo video vedrete esercizi per l'equilibrio statico, utili per imparare a controllare gli sbilanciamenti e le oscillazioni del peso del corpo di piccola ampiezza. Sono esercizi che non comportano un affaticamento generale o muscolare, ma che stimolano l'attenzione alla percezione del movimento e che quindi possono essere ripetuti più volte di seguito. Tuttavia possono provocare un senso di stanchezza di tipo mentale attentivo ed è bene quindi eseguirli con le mani in appoggio come mostrato nel video. Allora adesso facciamo un esercizio di equilibrio statico in appoggio alla sedia. Ora io la sedia qui l'ho incastrata contro il divano in modo che non scivoli. Ora mi metto prima di profilo, a caso mai mi giro così si vede meglio. Quindi quello che faremo è in appoggio con le mani alla spalliera della sedia, le gambe leggermente divaricate, faremo movimenti di oscillazione in avanti e indietro sulla pianta del piede. Il piede è bene appoggiato al pavimento, oscillo in avanti e indietro. L'oscillazione all'inizio la faremo piccola e piano piano aumentiamo di dimensione. Quindi oscilleremo in questo modo. Decidiamo anche noi in base a quanto ci sentiamo stabili, la forza che vogliamo applicare alla presa, alla sedia. Quindi possiamo anche decidere di staccare una mano o anche di staccarle tutte e due se ci sentiamo abbastanza stabili. Comunque considerate appunto che appena vi sentite di darvi il equilibrio ci possiamo riappoggiare. Quindi oscillo, posso anche decidere di chiudere gli occhi e vedere che cosa succede. Quindi oscillo e oscillazione proviamo a farla diventare leggermente più ampia, in modo da staccare le dita se uscillo indietro, i talloni se uscillo in avanti, in questo modo. Anche qui proviamo ad allentare la presa delle mani sulla sedia e anche a chiudere gli occhi. Appena mi sento instabile mi riappro. In questo modo. L'aumentiamo più che possiamo fino ad arrivare in appoggio sugli avampiedi. E oscilliamo ancora un pochino e in appoggio poi sui talloni, in questo modo. Poi adesso mi giro, voi rimanete come siete. Oscilliamo verso destra e verso sinistra, quindi bene sempre i piedi in appoggio, le mani sulla sedia, oscillo a destra, oscillo a sinistra. Prima l'oscillazione la facciamo piccola. Riduciamo la forza delle mani in appoggio sulla sedia. Possiamo decidere di staccarci se ci sentiamo stabili o di riappoggiare le mani. Se mi sento tranquillo e sicuro posso anche provare a chiudere gli occhi in questo modo, vedere che succede. Cerco di fare l'oscillazione leggermente più ampia. Chiudo gli occhi, li riapro, tolgo una mano, le posso togliere tutte e due, ritorno in appoggio, aumento l'oscillazione e magari provo ad andare in appoggio su un piede. Anche qui stacco leggermente l'appoggio delle mani, una alla volta, tutte e due, provo a chiudere gli occhi e torno in appoggio, oscilo, oscilo, oscilliamo. E adesso provo ad andare in appoggio sulla gamba sinistra, anche qui provo a staccare una mano, tutte e due, provo a chiudere gli occhi e mi appoggio. E proviamo adesso a fare questo esercizio, ritorno nella posizione prima. Quindi oscilliamo in avanti e indietro e poi andiamo in appoggio sugli avanti o sui talloni, osciliamo a destra e a sinistra e andiamo in appoggio su un piede o sull'altro. Proviamo e decidiamo autonomamente quanta forza mettere sulla spalliera della sedia e se ci sentiamo stabili a chiudere gli occhi. Quindi proviamo e oscilliamo e in avanti e indietro, aumentiamo un pochino l'oscillazione, solleviamo i talloni, solleviamo le dita, solleviamo i talloni, le dita e stargo sugli avampiedi. Provo a staccare le mani dalla sedia e a chiudere gli occhi e mi riapro, piego leggermente le ginocchia, ritorno su e mi appoggio e oscilo le mani indietro, in avanti, indietro, in avanti. Vado in appoggio sui talloni, adesso da qui piego leggermente le ginocchia, provo a staccare le mani se ci riesco, a chiudere gli occhi se ci riesco, ritorno su e mi riposo un attimo, uscilo a sinistra e a destra, a sinistra e a destra, a sinistra e a destra. Vado in appoggio sul piede sinistro, salgo sulla campiede, stendo la gamba fuori, torno indietro e mi appoggio e uscilo a destra, a sinistra, ricordatevi di alleggerire le mani dalla sedia, vado in appoggio sul piede destro, salgo sull'avampiede, provo a staccare le mani se ci riesco, stendo la gamba fuori, torno indietro, mi appoggio e mi riposo e posso ricominciare. Oscilo in avanti e indietro e in questo modo vado in appoggio sugli avampiedi, piego leggermente le ginocchia, provo a chiudere gli occhi, riappo e mi appoggio e uscilo indietro e in avanti, indietro e in avanti, vado in appoggio sui talloni, piego le ginocchia, torno su e mi appoggio e uscilo a sinistra, a destra, sinistra, destra, allento la presa delle mani se posso e ancora uno, e mi appoggio in appoggio sul piede destro, salgo sull'avampiede, stendo la gamba, ritorno indietro e mi appoggio e uscilo, allento la presa delle mani, uscilo, uscilo, mi appoggio sul piede sinistro, salgo sull'avampiede, stendo la gamba destra fuori, ritorno indietro, mi appoggio e mi riposo. Adesso possiamo fare un altro esercizio per l'equilibrio, molto semplice, in cui rimaniamo in appoggio con una mano sulla sedia e l'altra mano la muoviamo e seguiamo con lo sguardo il movimento, la direzione della mano, quindi decidiamo dove vogliamo che vada, se la mano va fuori o torna avanti o va in alto, l'importante è seguirla con lo sguardo, possiamo decidere la direzione che può prendere, quindi può andare dietro, in alto, molto lentamente, avanti, può scendere verso il basso, posso piegare le ginocchia, l'importante è seguire sempre con lo sguardo molto lentamente e rimanere in appoggio perché questi movimenti degli occhi possono provocarci degli sbilanciamenti, quindi molto lentamente, io seguo il movimento della mia mano che va dove vuole, posso decidere di guardare il palmo, di guardare le unghie, l'importante è seguirla sempre, quindi in alto, in basso, in avanti e quando mi sono stancato mi riposo e cambio la mano, quindi seguo il movimento della mia mano dove va, in alto, io decido di guardarvi le unghie, ho il palmo, vado dietro, vado in basso, in questo modo, sempre tutto molto molto lentamente, quando mi sono stancato mi fermo e mi riposo. Grazie a tutti.